Dunque, lo scheletro del piede è costituito da tarso, metatarso e falangi. Questo complesso osseo che vediamo evidenziato in vari colori è il complesso del tarso. Il tarso è costituito da sette ossa, che sono il talo o astragalo, il calcagno navicolare, poi il cuboide e i tre cuneiformi, primo, secondo e terzo. E ecco, il talo articola con tibia e fibula, superiormente, e poggia sull'astragalo, che invece delimita posteriormente la volta plantare. Poi abbiamo anteriormente i cuneiformi con il cuboide, che articolano con le ossa metatarsali, e tra i cuneiformi e il talo abbiamo l'interposizione del navicolare. Possiamo distinguere due file per le ossa del tarso, che sono la fila prossimale, costituita esclusivamente da talo o astragalo e calcagno, e la fila distale, con il navicolare, cuboide e tre cuneiformi. Per quanto riguarda le ossa del tarso, della fila prossimale, abbiamo, come detto, il talo, questo qui, e il calcagno. Dunque, il talo è l'osso breve sul cui viene scaricato, su di cui viene scaricato il peso del corpo, poiché appunto articola direttamente con le ossa della gamba. Esso presenta una testa, un collo e un corpo, ma voglio farlo vedere dall'anastasi. Questo è il talo. Dunque, il talo, come detto, presenta una testa, un collo e un corpo. Questa è la proiezione superiore e questa è quella invece inferiore. Partiamo dalla testa. La testa presenta una superficie, il talo è in gran parte ricoperto da cartilagine eialina per l'articolazione con le altre ossa, per articolazioni con altre ossa. Dunque, abbiamo la testa dell'astragalo, o testa del talo, ricoperta da cartilagine per l'articolazione con il navicolare. Infatti, questa è la faccia articolare per il navicolare. Inferiormente, quindi questa è la faccia articolare per il navicolare dalla proiezione inferiore, inferiormente, essa continua nella faccetta articolare anteriore per il calcagno. Ce ne sono tre, faccetta articolare anteriore, media e posteriore. Quindi la testa possiede sia la faccetta articolare per il navicolare, sia quella anteriore per il calcagno, che è posto inferiormente al talo. Dopodiché prendiamo il collo. Il collo è il segmento di unione tra testa e corpo. Presenta superiormente dei piccoli fori vascolari e, inferiormente, invece, la faccetta articolare media per il calcagno, che vediamo qui. Adesso, per quanto riguarda il corpo, il corpo presenta superiormente, lo vediamo, la troclea del talo. La troclea del talo articola sia con, quindi, la faccia articolare inferiore della tibia, della sua estremità distale, e sia con, ecco, sia con la fibula. Vediamo qui. Ecco, con la faccia articolare inferiore, o meglio, con la faccia articolare del malleolo, poi, e quindi della sua estremità distale, della fibula. Come dicevo, quindi, il corpo, poi, è rivestito, quindi, di cartilagine ialina per la troclea, che articola con tibia e fibula, ma, oltre a articolare con, diciamo, la faccia distale, la faccia articolare, quindi inferiore, di queste due ossa, articola anche con i loro malleoli. Infatti, qui abbiamo la faccia laterale, la faccetta malleolare laterale, e qui la faccetta malleolare mediale. Quella laterale, ovviamente, per il malleolo laterale, ovvero quello della fibula, e la faccetta malleolare mediale per il malleolo mediale della tibia. Per quanto riguarda, ecco, la faccia posteriore del corpo, esso presenta i tubercoli laterale e mediale. Il tubercolo laterale può, in alcuni casi, formare, non so se, il trigono. Insieme, questi due tubercoli formano il processo posteriore del talo. Per quanto riguarda, invece, la proiezione, quindi, inferiore del corpo, la faccia inferiore, notiamo la faccetta calcaneale posteriore, quindi, o posterolaterale, e essa è particolarmente ampia e divisa, cioè separata, dalle altre faccette articolari per il calcagno, dal solco della stragalo, che assieme al solco del calcagno, al solco corrispondente del calcagno, formeranno il seno del tarso, che, poi, non è nient'altro che questo qui. E qui, ancora più domicile. Inoltre, va detto che tra il tubercolo laterale e quello mediale è presente il solco per il tendine del muscolo flessore lungo dell'alluce. E qui, ancora più domicile,